Correva l'anno 2011 quando una giovanissima Giorgia Crivello era nel cast di Le Iene Trip, viaggio attraverso 15 anni di storia dello show d'Italia 1. Proveniente dalla scuola di DJ TV, la Crivello, Brian Sola classe 1989, di Bernareggio, Manata Vimercate, è oggi una delle più seguite blogger italiane. La natura, però, oltre a regalarle la capacità di scrittura, ha dato a questa ormai lanciatissima 26enne anche un corpo incantevole, una bellezza da ragazza comune ma indubbiamente carica di sensualità. Il che le ha permesso non solo di fare da modella e testimonia per diversi brand, come di apparire in alcuni videoclip musicali, ma anche di essere notata niente meno che da Playboy. La versione italiana della più celebre rivista maschile del globo l'ha eletta regina del mese regalandole la copertina del nuovo numero, con un servizio in cui Giorgia racconta la sua professione. E, naturalmente, si mostra in tutto il suo splendore. Scatti superhotman o non volgari la mostra non senza velli, trasformata dal fotografo Davide Esposito in una diva anni 40 con le forme in bella vista. Scrivere è sexy, assicura la Crivello, che cura il blog Valktisway da 2013 ed è già una star social con quasi 90.000 fan su Facebook. Eclettica e intraprendente, lasciate per il momento alle spalle le esperienze televisive, ha preferito inserirsi in una nuova categoria che sta acquisendo sempre maggiore popolarità anche in Italia. Quella delle blogger celebri, sulla scia di personalità già illustri quali Chiara Biasi, recentemente oggetto di polemiche da parte di chi l'accusa di essere anoressica, o la reginetta fashion Chiara Ferragni, che l'anno scorso è addirittura apparsa al terzo posto tra i live più ricercati su Yahoo. Chi se ne frega. Chi se ne frega. Grazie a tutti.